Moreno con Fiorella Mannoia, sempre sarai nel gran mattino. Dove non c'è solo la musica, c'è anche tanta informazione, oltre alla nostra redazione, che ogni ora ci informa su ciò che accade nel mondo. Il lunedì c'è uno spazio, una finestra, che si apre sul mondo del lavoro. Si chiama Job on Radio. In collaborazione con Face for Job abbiamo il SEO al telefono. Buongiorno ad Alessio Romeo, buongiorno. Buongiorno, è un po' di ritardo, buon 2018 a tutti. C'è ancora tempo, fino ad agosto possiamo augurare buon anno, tranquillo. Allora, consueto appuntamento che riprende dopo la sosta natalizia per informare gli ascoltatori sulle notizie che arrivano dal mondo del lavoro, su cosa le aziende siciliane cercano. Siamo tutto orecchie, Alessio. Benissimo, allora, questo inizio 2018 è molto alto livello, diciamo così. Abbiamo delle belle offerte su Palermo e Trapani, e poi faremo una finestrina su Catania, e come al solito vi do delle brevi informazioni, poi il resto le potete trovare sul sito o sull'atto. Allora, abbiamo la Price Waterhouse Cooper, uno dei colossi mondiali di consulenza che cerca neoloreati in economia su Palermo. Poi abbiamo una sfilza di offerte nell'ambito information technology su Palermo e Trapani di aziende come l'Arancia ICT, la Business and Progress Marketing Solutions, lo S2, SRL, sono tutte aziende in ambito informatico che cercano programmatori, cercano web digital designer e anche neodiplomati da avviare, quindi stage di formazione sempre utilizzini per giovani neodiplomati che possono avviarsi in questo ambito ICT. segnaliamo anche una bellissima opportunità in Banca d'Italia, quindi un concorso per due posizioni in ambito Taxe Legal a Palermo, per cui se andate sul sito trovate tutti i dettagli, scade a breve, e quindi una bellissima opportunità su Palermo in Banca d'Italia, e direi che è molto appetibile. E' sempre ghiotta la proposta di lavorare in Banca. E' sempre ghiotta, nonostante i casino che hanno fatto con le banche in Banca d'Italia, però ecco, magari hanno licenziato qualcuno per assumere di nuovi. Soprattutto gente di talento, magari. Esatto, esatto. Poi abbiamo su Trapani la QR, società di marketing e call center, che conferma anche in questa apertura d'anno numerose posizioni come operatori di call center, ma anche marketing specialist. E la Compass Bank, che anche in questo avvio di anno conferma posizioni su Palermo e Trapani per neolaureati in economia. Quindi ancora abbiamo delle opportunità aperte. Volendo fare la consueta parentesi sulla trasponda, segnalo, perché no, un concorso a Catania per 30 vigi urbani, cosiddetti agenti di polizia municipale, quindi un posto di lavoro interessante, a tempo indeterminato, e che potrebbe essere anche un gancio per un trasferimento futuro. Quindi vado a Catania. Quindi sono ben 30 posizioni, è un concorso, e quindi trovate poi tutti i dettagli nel sito. Perfetto, perfetto. Queste alcune delle tante offerte di lavoro che si trovano su Face for Job, che non è soltanto, diciamo, uno strumento per trovare lavoro, ma insieme alla fondazione Talent Island, di cui Alessio è presidente, crea delle belle iniziative, e questo weekend c'è qualcosa di interessante. Ti ringrazio. Finiamo quel percorso iniziato a ottobre, tre mesi fa, e il 20 gennaio, quindi sabato, saremo a Partinico a premiare tre dei 28 progetti che sono stati presentati dai giovani di Castellammare e Partico, quindi abbiamo avuto un fantastico risultato di questi ragazzi diplomandi, non solo, del quarto e quinto anno, che hanno presentato 28 progetti in ambito turismo, e la giuria li sta valutando, stanno arrivando tutti, abbiamo preparato ovviamente tutta una serie di procedure, li stiamo valutando, saranno premiati i primi tre con borse di studio e supporti in denaro da 2.500 euro a 1.000 euro, e anche andremo a premiare con una borsa di studio un ragazzo che ha vinto un concorso per fare un master all'ONU con una settimana a New York, quindi diciamo che concretamente sabato e spero che qualche televisione locale ci venga a trovare, saremo all'Istituto della Chiesa alle 9, col presidente di Valtour che premierà in prima persona i ragazzi, con la presentazione dei progetti, quindi credo che sia un finale lodevole e spero che qualcuno si faccia vivo per vedere questa benediziativa che ha avuto un risultato secondo me straordinario. Ottimo, ottimo. Complimenti Alessio, allora magari sabato ci vediamo, ne approfittiamo proprio per vederci vis-à-vis. Ti auguro una buona giornata, buon lavoro, Jobo Radio torna lunedì prossimo. Anche a voi vi ringrazio e alla prossima.